Il consiglio comunale in seduta straordinaria nella sera del 20 giugno doveva diventare il luogo per diversi chiarimenti tra il management della spedienna e i consiglieri comunali di primari dell'ospedale Basilotta di Nicosia. La richiesta di convocare un consiglio comunale era partita nel mese di maggio dai consiglieri di minoranza. Troppi i dubbi, poche le certezze e tante le domande. Che fine ha fatto la rinanimazione? Il punto nascita avrà un futuro? A che punto è la stesura della pianta organica? Tutti i dubbi che potevano essere risolti se solo si fossero presentati i dirigenti dell'aspidienna o anche il direttore sanitario. Invece in aula presenti solo alcuni dei primari del nostro comune Nicosiano e nessun rappresentante del management aziendale. Si è quindi stabilito all'unanimità una sospensione per decidere il da farsi e dopo circa 20 minuti i consiglieri hanno comunque deciso di aprire un dibattito. Al centro dell'attenzione le dichiarazioni del sindaco Luigi Bonelli che dopo aver fatto un breve scursus sui tanti problemi che attanagliano l'ospedale di Nicosia ha chiesto di stilare un documento da portare ai dirigenti dell'aspidienna nel quale si focalizzino tre problemi. Innanzitutto quello relativo alla chirurgia che da circa un anno opera solo per interventi programmati e non per le emergenze. E' questo nonostante l'organico dei chirurghi sia al completo. Il secondo aspetto è la presenza Nicosia del direttore sanitario del presidio ospedaliero Salvatore Madonia. In un primo momento avrà rassegnato le dimissioni poi respinte dal direttore generale dell'asp. Ma la presenza è ritenuta insufficiente soprattutto in un momento così particolare e delicato per l'ospedale. Sarebbe auspicabile secondo il sindaco Bonelli o che le dimissioni siano accettate o che si obbighi il direttore Madonia ad essere più presente nella sede del Basilotta. La terza questione è ormai una delle basi per la stessa sopravvivenza dell'intera struttura dell'ospedale ovvero la riattivazione della rianimazione. Il documento dovrebbe essere redatto il 23 giugno con una riunione congiunta tra consiglieri comunali, primari delle unità operative e sindacalisti della categoria. L'assenza di tutti i vertici dell'asp però fa capire come si è tenuto in considerazione l'ospedale Basilotta. Ma la cosa più grave è che nessuno di questi manager pagati profumatamente con soldi pubblici abbia partecipato dopo un invito a discutere in un civico consesso eletto a rappresentare il popolo nicosiano.